Paul Krugman nel New York Times parla dell'Italia, va ad eroggiare il nostro paese per come è riuscito ad affrontare l'epidemia da coronavirus da Covid-19 e avrebbe scritto sulla gestione del Covid-19 l'Italia fa fare una brutta figura all'America, se l'Italia è il manato dell'Europa allora noi cosa siamo? Così si chiede Krugman citando o meglio criticando le scelte compiute dal presidente Donald Trump. Il ruolo centrale giocato a Italia mi ha accorto di sorpresa, è stato il primo paese in occidente a subire una grande ondata di contagi, gli ospedali erano al limite, il bilancio dei morti è stato devastante nella prima fase dell'epidemia, ma dopo alcune settimane il numero di casi è iniziato a calare e i funzionari americani erano convinti che l'America avrebbe eseguito un percorso simile. Non è andata così, i casi negli Stati Uniti d'America sono cresciuti per un paio di mesi poi hanno iniziato a salire in maniera rapida, così come il tasso di mortalità. Insomma, Krugman, costui editorialista proprio di New York Times, va a, diciamo così, elogiare il nostro paese d'Italia per come è riuscito a fronteggiare l'emergenza derivata dal Covid-19 coronavirus. Bene, complimenti dunque a lui, premio Nobel, Paul Krugman, iscrivetevi al prossimo video.